Carpi contro Provercelli Si fa male Calamai schierato oggi alto a sinistra, entra Marchi, giocherà bene ma fuori ruolo. Poi Carpi che prova a reagire col colpo di testa di Eusepi, finisce alto, sempre 0-0, siamo al dodicesimo minuto all'incirca e allora si fa pericolosa la Provercelli, c'è il cross di Bencivenga, arriva colpo sicuro. Il colpo di testa di Espinal smarcato, centro area, spedisce fuori praticamente un match point e poi la solita punizione di Memushai, specialità della casa ancora Memushai. Carpi innesca il colpo di testa di Cioffi, palla in mezzo per Poli, pallone che anche in questo caso finisce fuori al ventottesimo, poi arriva il vantaggio per il Carpi, guardate che cosa combina Ranellucci. Difensore della Provercelli mette nella propria porta sul colpo di testa di Poli, cercava di liberare l'area praticamente, di anticipare addirittura il portiere Valentini, mette nella propria porta il Carpi ringrazia. Vola sull'1-0 al ventottesimo minuto, grazie davvero ad una disavventura del difensore della Provercelli, poi grande azione da Conca, Sade Euseppi, arriva nell'azione anche Cesca che scarica il limite dell'area. Alza la testa, guarda Perini, tutto bene tranne la conclusione che finisce alta al trentacinquesimo minuto. E' anche un buon Carpi, non giocherà la miglior partita dal punto di vista estetico, ma riesce a portarla a casa, nonostante il gol che arriva al 51esimo minuto. Ancora sull'asse, ben ci venga Espinal, c'è una deviazione di De Paola, deviazione che spedisce il pallone fatalmente sotto la traversa, probabilmente sarebbe stato gol. In ogni caso c'è però anche la giunta della Beffa. Il Carpi però cerca di non demoralizzarsi, trova come detto il pareggio alla Provercelli al 51esimo minuto, poi al 56esimo c'è la grande chance per Rosso che aggancia all'interno dell'area di rigore. Scarica però su Bastianoni che si guadagna la pagnotta, salvando la propria squadra dal possibile 1-2 Beffa. Poi lavora un pallone a centro area Cesca. Anche in questo caso buon lavoro di sponda, lo scarica all'esterno, dentro per Euseppi che lavora col corpo, supera il diretto avversario. E va a mettere dentro con la complicità del palo il gol del 2-1 al 63esimo minuto. Benissimo in questo caso Umberto Euseppi che mette dentro il gol del vantaggio del Carpi dopo aver forse salvato il risultato con Bastianoni. Il Carpi trova la rete del 2-1 nel finale. Altra occasione questa volta per Rosso che arriva a Rimorchio cercato da Tripoli. Non inquadra lo specchio della porta, il Carpi vince 2-1. Grande Carpi, terzo abbondantemente in zona playoff. Grazie. 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 Grazie.